Il Covid non risparmia le case reali europee. Il principe Carlo d'Inghilterra ha annunciato di essere risultato positivo al Covid e si trova dunque in isolamento. L'erede al trono ha partecipato proprio ieri sera a un evento al British Museum con altre decine di persone e vari ministri. Il principe Carlo, 73 anni, aveva già contratto il Covid-19 nel marzo del 2020 in forma non grave. In Spagna è il re Felipe a essere risultato positivo. Secondo la Casa Reale, il 54enne presenta per il momento sintomi lievi e dovrà rimanere in isolamento per sette giorni. Anche la corona danese è stata colpita dal Covid questa settimana. La regina Margherita II di Danimarca, 81 anni, è positiva. Anche nel suo caso i sintomi sono lievi, ma la monarca ha dovuto annullare tutti i suoi spostamenti.